Bene amici, recensione flash di Xiaomi Redmi 12 Pro Plus. Dei quattro presentati, questo è quello più alto in gamma e vi dico subito che mi è piaciuto, ma non avete letto Best Buy per i motivi che adesso vi racconterò. Ma passo indietro, partiamo dalla confezione. Buona dotazione perché c'è la coverina in silicone, c'è l'alimentatore da ben 120 Watt. Ahimè, anche qua. Xiaomi, mettimi l'uscita tipo C, no, esce normale. Il cavo ovviamente poi è Type-C perché io amo l'uscita tipo C nel caricabatterie perché poi posso usare tutti i cavi per caricare i vari device, ma qua abbiamo una batteria da 5000 mAh che viene caricata al 50% in 5 minuti. Quindi dovete uscire, avete il telefono scarico, lo buttate lì, il caricabatterie lo sbombazza subito, mentre 19 minuti per la ricarica completa. Purtroppo manca la carica wireless. Le celle sono due in modo da sdoppiare 60 e 60 Watt e non ucciderlo. Anche se, devo dire, Xiaomi nel suo software, la MIUI in questa versione 14, non mette delle ottimizzazioni per andare a stressare meno la batteria, come fanno altri, per esempio, caricami fino all'80% o la carica notturna magari spezzamela. Però in Xiaomi dicono che non ci saranno problemi di durata della batteria, non lo so. Vedremo informazioni sul sistema. Abbiamo un MIUI 14, come vi dicevo, ancora Android 12, ma la promessa è quella di arrivare tranquillamente a tre major update e cinque anni di patch. Vedremo. E patch comunque a febbraio 2023. Il processore che lo fa girare è stata una rivelazione. Mi piace tanto. È un Mediatek, il Dimensity 1080, processo produttivo a 6 nanometri, e come vedete è un telefono che praticamente non ha lag. È un filo sotto, hai processori top di gamma, mi immagino lo Snapdragon 8 di generazione 2, ma anche di generazione 1. Rispetto a questo, che ho definito Best Buy, che è il 12 5G, che è lo Snapdragon 4 di generazione 1, è più veloce, ma non è così più veloce. Qua vi ho già dato un piccolo dettaglio su quelle che saranno le conclusioni. Non è velocissimo a caricare le applicazioni perché la memoria non è spandibile, non si può mettere la SD, cosa che invece si può fare su questo E-UFS 2.2, ma nell'uso quotidiano vi sto facendo vedere praticamente tutte le applicazioni che si usano solitamente, gira bene e non ha nessun tipo di problema. qualche, ripeto, micro là, quando si aprono o si chiudono le applicazioni. Mi piace che da questa versione, il mio i14, ho trovato molti meno bug, baghettini, problemini, un software che ritengo essere già stabile, ma vi parlo della parte cam, perché qua c'è l'altra novità. Arriva sulla serie Redmi Note, la 200 megapixel stabilizzata otticamente, e poi la grande angolare, sempre la solita 8 megapixel, e qua sempre la solita inutile 2 megapixel per le macro. Come vengono le foto? Non sto a farvi vedere... Ecco, altra cosa. La serie Redmi ha il sensore di impronta digitale sul tasto di accensione, non che sia scomodo, io lo trovo comodo perché sono destro, magari i mancini possono trovarlo un pochino più scomodo, ma è una cosa che forse su un telefono, che non costa pochissimo, avrei voluto essere spostata sotto al display. Ma vi stavo parlando della fotocamera. Rispetto al base c'è qualche opzione in più per gli scatti e le foto, ma soprattutto i video possono essere fatti al massimo in 4K a 30 frame per secondo, mentre qua ci fermavamo al 1080. Altalenanza di foto in base alle condizioni di luce. Queste foto che ho fatto quando sono andato a tagliarmi i capelli, a me non hanno fatto impazzire, però poi ho fatto altre foto che sono state molto belle. Per esempio, queste che ho fatto a due veicoli elettrici che apprezzo particolarmente, ha i di Bazz in prova. L'anteriore, purtroppo Xiaomi lavora poco sulle camere anteriori e non ha una gran bella qualità. Qua ancora poca luce, strana, ero a Firenze, vuoi non farti due t-bone incredibili? Sì, ce le siamo fatte, erano buonissime, mangio carne in maniera sostenibile, non lo so, sostenibile, consapevole, non apriamo questo calderone una volta al mese, mi piace mangiarla, la amo e quindi lo faccio, ma non tutti i giorni. Ovviamente cotta veramente bene e poi il Duomo di Firenze è bellissimo, ma con la modalità notturna ha tirato fuori proprio dei begli scatti, che non ha tirato fuori con quelle mezze luci un po' strane. Insomma, altalenante, foto per l'amministratore vicini, ma sì, ok, sono un vecchio rompipalle, ma si può non differenziare la spazzatura nel 2023, plastica, carta, barattolo di vetro, vabbè, speriamo che si adeguino, e poi i video. La principale ha lo stabilizzatore ottico, forse la prima volta sui Redmi Note. 4K a 30 frame per secondo, ma solo con la principale, questa è la grandangolare e solo 1080 a 30. Così avete sentito anche l'audio. Con la cam principale, ovviamente i video vengono meglio, un pochino più stabilizzati, non siamo a livello top camera, però i video vengono, diciamo, abbastanza bene, da buon medio gamma. Foto macro, bene, un buon bocche naturale, e anche qua ancora, quando siamo con le mezze luci, cioè non con sole pieno, ma con quella luce strana, le foto vengono bene, attenzione, sto cercando il piano dell'uovo, perché qua c'è scritto 200 megapixel, e perché poi questo telefono non costa pochissimo. In realtà non è un camera phone, ma le foto sono proprio da buon medio di gamma. Vi parlo un attimo di parte telefonica, devo dire che non ho avuto problemi in questi giorni, ho fatto anche un lunghissimo viaggio, Milano, Firenze, poi Firenze e Milano, ho messo qua adesso l'uovo, sentite? Molto alto l'uovo, perché è stereo, esce sotto, esce sopra, si possono registrare le chiamate, vi faccio anche sentire Spotify come suona. Ecco, devo dire che sull'audio ha sicuramente una, forse anche due marce in più del Redmi Note 12 5G, e ha anche il jack per le cuffie, oltre ad avere l'emettitore a infrarossi. 208 grammi, però 8,9 mm lo spessore, la batteria ha una durata incredibile, ho fatto ieri due screenshot, guardate, 6 ore e 27 minuti, e sono arrivato col 14%, ma dopo averlo massacrato con 1 ora e 20 di Maps, 2 ore e 24 di Waze, questo è il grafico della scarica, e forse proprio la batteria e le prestazioni, in generale molto equilibrate, sono il punto forte di questo smartphone. La domanda che vi faccio è, prezzo di lancio 499 euro, a lancio in omaggio anche l'orologio, il Redmi Smartband Pro, mi sembra una cosa del genere, sono secondo me, non tanto tanti in assoluto, ci possono stare per la qualità di questo Redmi Note 12, ma lo Xiaomi 12, con Snapdragon 8 di generazione 1, con memorie più veloci, con un bel display, anche un po' più compattino, comodo a tenere in mano, questo l'ho trovato un po' pesantucce, forse anche un po' scivolosetto, è un scivoloso, non quando lo prendi in mano, perché ha un buon grip, dato a questo scalino, quanto quando lo appoggi, perché è molto leofobico, quindi è di quei telefoni che appoggi, poi mano a mano scivolano e cadono dalla scrivania, se non è esattamente in piano, beh, il Xiaomi 12 costa 450 euro, perché dovrei scegliere questo a 499, forse per il jack delle cuffie, non lo so, forse si fa un po' concorrenza in casa, quando arriverà a 399, 389, 379, sarà anche lui un Best Buy, perché l'ho trovato comunque molto equilibrato, e il prossimo video, tra qualche giorno, confrontone tra tutti i Redmi Note 12, per capire quali sono i migliori, ma già ho la sensazione che siano questi due, questo Best Buy, perché alla fine l'uso quotidiano non è molto diverso da questo, e costa 279 euro, questo perché è il migliore del Redmi Note 12, e come avete visto, va bene, è solo un po' il prezzo, ma un po' eh, non è drammatico, ciao.